Difesa, protezione dei confini, sviluppo economico e tutela dell'ambiente. Sono questi alcuni dei temi principali del discorso programmatico di Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo di giovedì mattina, a poche ore dal voto che San Ciracchi guiderà la Commissione per i prossimi cinque anni. La 65enne tedesca si è candidata per un secondo mandato alla Presidenza. L'incognita è sui voti dei Verdi e sull'eventuale appoggio da parte di Giorgia Meloni. Nell'intervento la critica a Viktor Orban per essersi recato in Russia per la cosiddetta missione di pace. La percentuale di spesa delle famiglie per le abitazioni è aumentata drasticamente. Gli affitti e i prezzi delle case sono saliti alle stelle, afferma von der Leyen. Per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi sociali, la candidata alla Presidenza della Commissione promette, tra le altre cose, la nomina di un commissario che si occuperà anche di alloggi, insieme alla presentazione del primo piano europeo delle abitazioni a prezzi accessibili. Sulle migrazioni, von der Leyen afferma la necessità di un chiaro rafforzamento delle frontiere, portando il numero di guardie Frontex sino a 30.000 per gestire insieme con fermezza la sfida migratoria. Secondo la popolare tedesca, la gestione di quel dossier deve sempre ispirarsi al principio di solidarietà. Sulla sviluppo economico proporrà un nuovo fondo per la competitività europea, per finanziare in particolare i progetti di interesse comune. Tra le promesse, un'unione sempre più green, con la presentazione di un nuovo accordo industriale di energia verde.